salve a tutti facebookiani ecco il video di ringraziamento ve l'ho promesso e ogni promessa non è debito ma è bello mantenerla il video di ringraziamento per tutti coloro che attraverso il social network facebook ieri hanno condiviso il piacere dei miei 52 anni con me facendo gli auguri commentando ciò che scrivevo eccetera eccetera vi ringrazio e essendo tutto condivisibile in questo universo quindi la gioia che ricevi bisogna in qualche modo ritornarla ridistribuirla nell'universo io oggi faccio un regalo a voi un regalo che durerà per tutti questi miei 52 anni per tutto quest'anno quando arriveranno i 53 vedrò se mantenere questa tipologia di regalo se non mantenerla cosa vi voglio regalare di bello e questo regalo è esteso a tutti voi che mi avete fatto gli auguri ma è esteso a tutto il mondo è esteso anche a tutti coloro che seguono il mio canale su youtube vedranno questo video sul mio canale youtube siamo in un mondo dove è difficile essere ascoltati dove necessita un ristabilire il dialogo ristabilire la comunicazione imparare a saper esternare trovare qualcuno dove poter esternare ciò che sia dentro magari qualcuno che sappia semplicemente ascoltarti che non sia un prete dispensatore di consigli che non sia un dottore uno psichiatra per forza qualcuno che ti debba dare una terapia dei consigli che sia una persona con la quale tu puoi puoi parlare liberamente con la quale ti puoi confessare ti puoi liberare ti puoi lasciare andare puoi esternare senza temere un confronto e senza avere se non lo vuoi una risoluzione io mi offro fino al compimento del mio 53esimo compleanno poi vedremo il da farsi come ascoltatore potete interagire con me scrivendo a evolutore chiocciola gmail.com corrisponderemo piacevolmente e se sarà il caso potremo anche avere un colloquio face to face questo è il regalo che io faccio a voi spero sia un gradito regalo non siete obbligati a usufruirne ovviamente se volete c'è questa possibilità c'è questa opportunità lo faccio mettendo a disposizione il mio tempo libero non lo faccio come alcuni potrebbero pensare per la serie questo non ha niente da fare io sono un creativo quindi ho un milione di cose da fare e inventarmene un milione una non sarebbe assolutamente un problema lo faccio perché ho deciso di rimettere in circolo il calore l'amore che quotidianamente l'universo mi dona mi sta donando tante persone vicine e allora per essere vicino alle persone vicine e lontane mi propongo come ascoltatore se volete io sono il vostro ascoltatore questo è il regalo del mio 52esimo compleanno fatene tesoro se volete se non volete tranquilli non mi offendo andrò avanti a fare felicemente i cavoli miei e beatamente l'indirizzo mail è evolutore chiocciola gmail.com ripeto evolutore chiocciola gmail.com grazie ancora a tutti buona vita a tutti e se volete buona interazione a tutti io sono qua non pretendete ecco mi raccomando la risposta immediata la risposta arriva però non potrebbe essere immediata quindi abbiate pazienza che comunque la vostra domanda verrà presa in considerazione quanto prima il più presto possibile una volta si parlava molto di più oggi si parla molto di meno c'è la necessità di essere ascoltati avete oggi se volete un'opportunità in più di esserlo